Ciao bellissimi ben ritrovati in questo nuovissimo video e benessi questa volta ragazzi voglio fare un video un po' diverso dal solito perchè siamo su Baldi Basics e benessi quest'oggi puoi andare a vedere un po' di matematica 4-6 7-3 5-2-3 e fino a qua ci siamo ragazzi il primo guaderno l'abbiamo recuperato adesso ci dovrebbe dare la monetina se mi ricordo eccola a posto secondo guaderno 2 alla faccia mettiamo 1 eh vabbè sti gatti oh eccolo ahhh ho rotto sto niente senti se cominci martella uh gesù porco si è finito di fischiare quello scemo uh gesù pure le macchine levati dai aiuto ahhh non sto capendo più niente va tu ne ho fai un culo marionetto di merda nooo via 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 oh oh via via a libertà gente con quel cretino che vedi se la smette di sbatte quella scazza di mind di di bassone mandati fa male la mano si sbalzo lo sbatti troppo e fermate un quaderno veloce fa un culo ma dai che siamo all'inizio giù gesù mio no fermo ma perché bravo spingi 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 no da questo stronzo ciao dire tu bastardo aiuto dove cazzo sei ciao io ti ho perduto io non mi piace si tua madre perché qua vieni bastardo ah ah grazie no no il quaderno ciao ma 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 è buon culo dove quando si scelta eba ass un culo bambina c'è che c'è no iiii tue amà Ma se viene quella macchina di merda La suicido No, no, no I'm a break Due culi Corri Ok Ok No, 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 no Uno Due Tre Quattro Cinque Ah Via, via Non sto capendo più niente, aiutatemi Oddio 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 Dove stavo? Oh no, levati Dritto, vedi, sta a correre No Oh no Oh no Oh no Oh no C'è un vaffanculo C'è un vaffanculo Tua madre Diretto Diretto I lost you I don't Ah Te ne vedi coglioni Tei Un rotto nel culo Tu sto No I don't I don't I don't One Two One You let One Two Two Three Four Five One Let's play Let's play again Ah Assardo No Ah Ah Ah